Il ricordo di Andrea Manzi? Stamattina ho avuto una brutta notizia di un fratello che veramente per me era un fratello, Andrea Manzi, ci ha lasciato e Raffaele sono distrutto veramente perché l'ho sentito 15 giorni fa mi hanno detto che si era ripreso. Ma lui era stato male? Era stato male, ha operato al cuore. E quindi era un appassionato della festa di Giglia ed era un devoto di San Paolino. Era amico di tutti quanti, l'Ascizara della Battiera è stato un cullatore romiato, è stato cullatore di tutti quanti, è amico di tutti e tutto c'è. Purtroppo oggi è andato a mancare il nostro amico, sperando che riposa in pace e che finalmente possa trovare un poco di pace. Un po' di pace.